grosse novità dal comparto batterie ragazzi la tecnologia avanza e purtroppo possiamo dire che le batterie a litio sono arrivate al capolinea vai con l'intro ebbene ragazzi e benvenuti in un nuovo video e allora come dall'intro oggi parliamo di batterie ragazzi batterie l'innovazione va avanti continua il punto focale della tecnologia oltre che la cina e l'america la silicon valley oggi vi presento una nuova un nuovo tassello per la mobilità elettrica del futuro per l'accumulo del futuro perché a mio avviso hanno davvero trovato anche se forse momentaneamente perché la tecnologia avanza e avanzerà sempre però ragazzi hanno realizzato dei pacchi batterie delle celle molto 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 migliori delle litio ioni che ad oggi erano quelle migliori per diciamo wattora per chilogrammo per potenza correnti di spunto eccetera 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 oggi però parliamo di amprius è un'azienda americana con freemont cioè a qualche chilometro dalla casa automobilistica tesla e già questo ragazzi ci deve fare pensare perché perché tesla ha annunciato che tra qualche mese darà una grande presentazione con delle novità che riguardano il comparto batterie e secondo me quello che tesla ci vorrà dire è che hanno trovato le batterie sostitutive alle litio nello specifico andiamo a parlare delle silicon nanowire technology che cos'è questa tecnologia ragazzi sono sempre delle batterie al litio però hanno implementato anche altri materiali nello specifico c'è il silicio ragazzi il silicio allora la batteria al silicio era già stata fatta sperimentata provata molti anni fa però una pura silicio non poteva mai puoi mai funzionare perché dopo qualche ciclo di carica e scarica cosa succedeva che il silicio quando fa appunto il ciclo si ingrossa si espande questa espansione incontrollata del silicio comprometteva lo stato fisico del materiale stesso perché perché si spezzava proprio si rompeva in mille pezzi e la cella si danneggiava il silicio ad oggi è il miglior materiale per quanto riguarda l'uso in batterie però l'unico problema che c'era ed era grossissimo era questo che è vero sì la batteria la potevi realizzare è vero sì veniva piccola leggera però tantissima corrente in accumulo una diciamo un peso chilowattora molto 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 più alto a quelle delle litio però ragazzi dopo 1 2 3 4 cicli ciao la potevi buttare i ricercatori ci hanno combattuto sopra ci hanno studiato e amprius ha trovato la soluzione la soluzione ragazzi che una soluzione davvero innovativa stiamo parlando di un una sorta di contenitore in poche parole sono dei filamenti in silicio proprio dei capelli ecco dei filamenti in silicio questi filamenti in silicio prima si esplodevano si allargavano fin quando non si rompevano ora loro cosa hanno fatto loro hanno creato una sorta di involucro tutto attorno a questi filamenti creando questo involucro cosa hanno fatto sono riusciti a tenere diciamo compatto il filamento in silicio e non farlo rompere spezzare rompere in mille pezzi facendo questo ragazzi sono riusciti a detta loro a fare delle celle al cento per cento in silicio con questi micro filamenti stiamo parlando ragazzi di batterie che arrivano anche ai 500 watt ora per chilogrammo cosa che invece le litio ioni arrivavano a forse 300 320 watt ora per chilogrammo perciò c'è una più grande diciamo massa energetica ecco una densità energetica molto ma molto ma molto più grande di quella delle vecchie litio ioni e questa casa costruttrice al momento sta sperimentando batterie per smartphone per elettro utensili però sono certo che andranno a cooperare anche con tesla per il settore automotive anche perché nel suo sito ufficiale e nelle aspettative per il futuro hanno sottolineato che andranno anche a lavorare con auto elettriche perciò già lo sanno perché è normale avranno già dei contratti in in corso però solo che si aspetta l'annuncio ufficiale di tesla per andarlo a svelare a tutto il mondo comunque in teoria potrebbe anche costare meno questo vuol dire che una ricarica ti dura molto di più ragazzi se il video ti è stato utile un like comunque nei prossimi mesi andremo avanti su questa tematica aspettiamo insieme il batteri dei di tesla iscriviti al canale un like un commento fammi sapere cosa ne pensi delle nuove celle 100% al silicio ciao e al prossimo video